Non sono affatto convinto che il coronavirus ci libererà entro sei mesi. L'ottimismo deve essere accompagnato da interventi giusti. Così il professor Massimo Galli, responsabile del reparto malattie infettive dell'ospedale Sacco, intervenendo a carta bianca sulla RAI. È un virus nuovo, una realtà nuova. È difficile trovarsi di fronte ad una seconda ondata della stessa portata della prima. Però abbiamo evidenti problemi. Basta guardare i numeri e basta guardare cosa sta succedendo nei nostri ospedali, anche se non in modo paragonabile a quello che succedeva a marzo. Prima di chiamarci fuori, dobbiamo usare tutte le cautele, ha spiegato. Quanto alla riapertura delle scuole, Galli ha detto Mi auguro che tutto finisca per essere controllato e gestito in maniera da non avere un vero aumento di focolai che poi possono diventare incontrollabili. Il momento critico è rappresentato da tempistica e tempestività dei test.